di Beach Soccer, la Serie A, due gironi, il girone nord e il girone sud, noi stiamo seguendo tutte le tappe, vi accompagneremo sino alle finali di San Benedetto del Tronto per scoprire chi vincerà lo scudetto 2008 del campionato di Serie A di Beach Soccer uno sport che in estate affascina, trascina, diverte e che ovviamente potrete seguire sempre su Sky Sport si allarga Martin, poi voleva il pallone di ritorno, eccolo ancora Martin, palla sul destro si allarga Martin nel suo tiro, la parata di Iurino e poi Maniero riparte dal suo portiere Silvestri anticipato però, bravo Paganin a fermare l'azione argentina Maniero, Maniero, Ganz, pensato al pallonetto, poi Maniero, mamma mia che gol di Pippo Maniero e questo sì che è spettacolo, tutti in piedi, 7 a 2 ma che gol, adesso andremo sicuramente a rivedere colpo di classe assoluto per Filippo Maniero, guardate cosa si inventa, che colpo di tacco si inventa grazie Filippo per questo gol che ci hai regalato lo spiega addirittura ringrazia ma hanno dimostrato con la standing ovation i tifosi cosentini di avere apprezzato e non poco il gesto spettacolare di Pippo Maniero, ancora lui Maniero di tacco questa volta è un assist alla mezza rovesciata, adesso è spettacolo puro si diverte ovviamente anche Maurizio Iorio l'argentina non può far altro che guardare per ora lo sfoggio di classe della squadra azzurra sbaglia tutto Martin, anche il lancio, guardate qui, colpo di tacco e mezza rovesciata la palla si è finita fuori, poco importa visto che comunque il vantaggio è largo per l'Italia più 5, 7 a 2 Iorino per Maniero chiede palla a Maiellaro eccolo che viene servito, il palleggio voleva l'assist, ora è 2 contro 1 Maniero facile questa volta per Lorusso poi tacco anche per Martin, sciitano chiama schermo